facciamo i calzoncelli siciliani ovvero i buccellati biscotti ripieni per l'impasto abbiamo bisogno di farina per dolci grano tenero strutto chiamato anche zogna latte zucchero tuorlo d'uovo lievito per dolci vanillina e un po di ammoniaca per dolci abbiamo messo la farina lo strutto o chiamato anche zogna o zogna lo zucchero il tuorlo d'uovo e il latte andiamo a mescolare aggiungiamo il lievito l'ammoniaca e la vanillina aggiungiamo la buccia di un'arancia tritata l'impasto deve raggiungere questa consistenza lasciamo riposare l'impasto per 30 minuti ed ora facciamo i calzoncelli stendiamo la sfoglia andiamo a tagliare la sfoglia mettiamo il ripieno chiudiamo così e sigiliamo con la forchetta mettiamo in teglia ed andiamo a segnare con un coltello inforniamo a 200 gradi per 20 minuti sfornate mettete la glassa sopra e decorate con qualche caramellina colorata l'ammoniaca si